Sono 11 gli operatori sociosanitari che fino al 30 giugno con contratto di lavoro a tempo determinato con l'azienda sanitaria provinciale sono operativi nei presidi ospedalieri Sant'Elia di Caltanissetta e Vittorio Emanuele di Gela. Assunzioni queste che rientrano tra quelle che rispondono all'emergenza coronavirus. Una graduatoria di 80 candidati che hanno presentato istanza due settimane fa. Quella dell'OS è una professione sociosanitaria. Gli operatori danno supporto infermieristico e si occupano di assistenza di base ai pazienti parzialmente o totalmente non autosufficienti prevalentemente con interventi igienico-sanitari aiutandoli nella cura dell'igiene personale, nella mobilizzazione e nell'alimentazione.